oggi si parla sempre più spesso di sostenibilità noi abbiamo iniziato a lavorare sulla sostenibilità dalla nostra fondazione dieci anni fa la sostenibilità significa lasciare alle generazioni future qualcosa di migliore di quello che hai trovato nel nostro ambito abbiamo sviluppato tutti i nostri prodotti non solo per il lavoro base ovvero il trasporto stradale ma anche per il trasporto marittimo e il trasporto ferroviario quindi tutti i nostri veicoli hanno una sostenibilità ambientale elevata perché oltre ad essere sviluppati per il trasporto su strada sono sviluppati per il trasporto su ferrovia e su mare abbiamo vinto l'Aua 2023 alla fiera di Hannover all'IA che è la fiera più importante del nostro settore perché abbiamo presentato un prodotto super innovativo che ci ha fatto vincere questo premio prima azienda italiana in tre tanti del premio è un veicolo un mezzo di trasporto che fa della sostenibilità la sua caratteristica e quindi da dallo sviluppo dei prodotti fino alla commercializzazione dei prodotti passiamo sempre di più per quello che una volta passiamo sopra quello che una volta era il nostro mercato base quello trasporto stradale per quello ferroviario e marittimo sempre con i nostri semi marittimo